Musica Si è attenuata l'ondata di maltempo ma si fa ancora la conta dei danni sul lago di Caldonazzo, ad esempio dove l'acqua ha lagato molte strutture ricettive, questo a ridosso della settimana di Pentecoste con i turisti tedeschi in arrivo e così interviene la protezione civile. Giovanni Motter Matteo Ciula, proprietario del lido di Caldonazzo, è sconfortato. È la sesta volta negli ultimi 13 anni che vede l'albergo invaso da 10 cm d'acqua, ma normalmente accadeva a novembre in un periodo morto, non a stagione avviata. Stessa sorte per il lido di San Cristoforo e per i campeggi che si affacciano sul lago, con gravi ripercussioni economiche. Abbiamo dovuto rinunciare a tutte le prenotazioni di Pentecoste, abbiamo dovuto ridare le caparre e la gente che vuole venire la dirottiamo verso i campeggi che sono sopra il lago. Noi siamo qua da 51 anni che abbiamo il campeggio e è la prima volta in 51 anni che succede. Il lago è 150 cm sopra lo zero idrometrico, per questo si è reso necessario l'intervento della protezione civile che nei prossimi giorni installerà due pompe da 1200 litri al secondo che attraverso sei tubi da 30 cm lunghi 500 metri convoglieranno l'acqua dove l'alveo del Brenta è più capente. Con l'intervento delle pompe si alleggerisce la situazione perché riusciamo a scaricare 1200 litri in più al secondo con le due pompe che in un paio di giorni riusciranno ad essere operative. Con l'idrovolo in funzione si stima di abbassare il lago di circa 1 o 2 cm al giorno. Un centimetro di altezza del lago corrisponde a 50.000 metri cubi. Questo salvo ulteriori precipitazioni. Purtroppo le previsioni non sono rose e l'anticiclone delle azzorre tarda a farsi avanti. Grazie a tutti.